Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti nuovamente, ben ritrovati qua nel disordine solito, usuale, consueto della mia libreria. Allora, cari signori, si torna a parlare di libri e si parla di un libro che a mio modesto, opinabile, personalissimo giudizio, è assolutamente indispensabile per capire le dinamiche che hanno portato al successo gli alleati durante la Seconda Guerra Mondiale. Parlo di questo fondamentale libro di Richard Overy intitolato La strada della vittoria, perché gli alleati hanno vinto la Seconda Guerra Mondiale. Un libro scritto da un insegnante, da un professore che insegna storia moderna al King's College di Londra, che ha pubblicato anche due altri libri estremamente importanti, cioè Crisi fra le due guerre mondiali e Le origini della Seconda Guerra Mondiale. Altri due libri che conto di recensire, quanto prima per voi. Allora, un lavoro fondamentale, è stato definito come un lavoro fondamentale, una ricostruzione esemplare dell'ultimo conflitto mondiale. Allora, nel 1942 ci dice l'introduzione che nel 1942 le forze dell'asse nazifascista, Germania, Giappone e Italia, erano vittoriose ovunque. Nel 1944 un esito della guerra favorevole agli alleati era solo questione di tempo. Che cosa rese possibile questo rovesciamento di equilibri e il radicale annientamento di due imperi guerrieri come la Germania e il Giappone? Overi mostra dove gli alleati seppero volgere a proprio favore le sorti del conflitto, la guerra sul mare, le grandi battaglie del fronte orientale, la guerra aerea, lo sbarco in Normandia. Ma risalendo a Monte, egli illustra la maggiore capacità dei paesi alleati di riconvertire alla guerra, il sistema economico, la loro superiorità tecnologica, la mobilitazione morale delle popolazioni che si trasformò in volontà di combattere e vincere. Questo libro che consiglio caldamente a tutti voi e insomma signori spendete 1500 euro per un iPhone, fate come me, prendetevi un telefonino cinese che funziona uguale, ha le stesse funzioni e i soldi risparmiati li spendete in libri come questo che vi aiuteranno a capire meglio le dinamiche della seconda guerra mondiale, il perché della vittoria alleata durante la seconda guerra mondiale, il perché di un ribaltamento così totale, così improvviso, così irreversibile nel giro di due anni nelle sorti del conflitto mondiale. Overy ce lo spiega. Le parole chiave di questo libro sono essenzialmente logistica, pianificazione industriale, a come tattico, flessibilità operativa, standardizzazione dei mezzi meccanici e soprattutto la capacità di mediazione di equilibrio tra gli alleati. Sembra come dire facile detta così com'è ma rendiamoci conto che si è trattata di una cosa assolutamente titanica. Allora Overy spiega come le potenze dell'asse non siano mai state in grado di fare quello che gli alleati anglo-americani e sovietici sono riusciti a fare. Ripeto, la standardizzazione dei mezzi meccanici, assolutamente indispensabile per accorciare la filiera produttiva, per accorciare la catena logistica di rifornimento, perché un conto è mettere in produzione quattro o cinque tipi di camion diversi i cui organi interni erano praticamente intercambiabili fra loro. Prendete per esempio i camion americani, sembra una stronzata ma i camion americani usavano tutti gli stessi tipi di pistoni, gli stessi tipi di bielle, gli stessi tipi di fasce elastiche. Mentre, tanto per fare un esempio, gli italiani mettevano in produzione dieci tipi di camion diversi, tutti, diciamo, diversi fra loro, senza una parte intercambiabile in cui, ricordiamoci, per esempio, faccio un esempio, le trattrici Breda. Le trattrici Breda per l'artiglieria avevano la simpatica caratteristica di avere i pedali di freno, acceleratore e frizione, orgogliosamente marchiati con la scritta Breda. Non sia mai che noi facciamo come i judo-plutocratici rettiliano-massonici guidati dal brutale Roosevelt che andavano in combattimento con i camion che erano dotati tutti, orrore, della stessa pedaliera. Sì, sembra una minchiata, ma pensateci, gli alleati misero, gli americani soprattutto, misero in funzione, misero in produzione una quantità spaventosa di mezzi meccanici, camion, jeep, auto, eccetera, eccetera. I camion americani, e parliamo di milioni di pezzi, parliamo di milioni di automezzi, dicevo, erano dotati praticamente tutti dello stesso tipo di pedaliera. Le pedaliere, i pedali di freno, frizione e acceleratore dei camion americani erano praticamente tutte intercambiabili fra di loro. I pezzi di ricambio, per esempio il pistone, i pistoni, i cilindri, le valvole, erano tutti intercambiabili fra loro. Perché? Perché la pianificazione industriale aveva incanalato le energie imprenditoriali e produttive dell'America nell'unica direzione di servire i fabbisogni delle forze armate con il minimo sforzo possibile. Cioè, tanto per dire una, la standardizzazione, sempre secondo Overy, nelle pagine di Overy, si legge come In poco più di un anno, lo stabilimento Ford di Willow Run riuscì a produrre, a entrare in funzione producendo su licenza i bombardieri B-24 Liberator. Quando lo stabilimento di Willow Run andò a pieno regime sfornavano un bombardiere B-24 quadrimotore ogni 63 minuti. Eh, eh, signori, e parliamo di un aereo composto da 30.000 parti con un milione e mezzo di componenti. Rendetevi conto del titanico sforzo fatto dalla logistic, cioè fatto dal fronte interno americano, dal potenziale industriale americano per focalizzare al meglio, per incanalare nell'unica direzione di servire, di fornire il più presto possibile e il meglio possibile le forze armate americane, inglesi e anche russe, insomma, per fornire ai combattenti i mezzi per combattere e per muoversi. La logistica, signori, la logistica, la logistica. Ripeto, logistica, pianificazione industriale, acume tattico, flessibilità operativa. I veri segreti della vittoria alleata di una così rapida riscossa alleata dopo il 1942 sono questi. Non ci sono tanto, come dire, i segreti. Il segreto è tutto qui. E si trattava di una cosa poco conosciuta e più perché l'appassionato, lo ammetto anche io, fino a qualche anno fa, io non sapevo assolutamente niente di quello che accadeva dietro il fronte. Comperavo libri che parlavano delle battaglie, che parlavano degli aerei, che parlavano di carri armati, ma libri che al massimo mostravano come dire le figure, le foto, la storia dei mezzi operativi, eccetera, eccetera. Ma non mi ero mai focalizzato su quello che accadeva a monte del prodotto. Cioè, come si arrivava al prodotto finito, come si arrivava al camion che arrivava in prima linea a portare le munizioni o a trasportare le truppe, come si arrivava al carro armato che combatteva in Italia, in Francia, che combatteva in Russia, come si arrivava a far giungere il materiale in prima linea. Ecco, un quesito fondamentale che io non mi ero mai posto, che ho incominciato a capire qualche anno fa, è che questo libro fondamentale spiega in maniera, a dir poco, esemplare, chiarissima e molto, molto, molto precisa. Insomma, si tratta di un libro, questo di Richard Overy, la cui lettura è indispensabile per capire le differenze tra il caotico, e ripeto, sottolineo, caotico sistema produttivo tedesco, la ancor più caotica disorganizzazione e burocratizzazione industriale giapponese, insomma, io non voglio sparare sulla croce rossa, ma è l'impietosa, l'impietosa dimostrazione del clamoroso e spaventoso fallimento dell'economia corporativa italiana, incapace di, insomma, mettiamoci, ho fatto l'esempio delle pedaliere dei camion, ripeto, c'erano, detto, in America, Ford, Dodge, Chrysler, Chevrolet, eccetera, eccetera, avevano standardizzato il più possibile i loro mezzi, i pezzi di ricambio a disposizione della logistica americana per la riparazione dei camion che ancor più dei carri armati erano fondamentali per la macchina bellica degli alleati, dicevo, i camion erano tutti standardizzati, ogni, i pezzi per il camion Chevrolet andavano bene per il Dodge, i pezzi del Dodge andavano bene per il Ford, i pezzi del Ford andavano bene sia per lo Chevrolet che per il Dodge, insomma, insomma, signori, standardizzazione, cooperazione fra le industrie, cioè il mettere da parte le rivalità, il mettere da parte i particolarismi, il mettere da parte, non dico la concorrenza, perché, insomma, sappiamo bene, gli americani hanno questa grande, insomma, il capitalismo americano, punta essenzialmente al profitto. Il capitalismo americano riuscì, diciamo, non solo il capitalismo americano punta al profitto, tutto il capitale punta esclusivamente al profitto. Il capitalismo americano seppe capire che rinunciare alla particolarità, cioè, insomma, rinunciare alla propria particolarità per incanalarsi sull'ambito della standardizzazione garantiva uguali profitti, garantiva soprattutto una migliore fruibilità, una migliore catena logistica. In America questo funzionò estremamente bene perché, ripeto, le varie industrie, i vari industriali, chinarono la testa di fronte alle necessità superiori del paese che, tutto sommato, insomma, il governo federale li pagava, insomma, il governo federale li pagava, li pagava anche bene. Loro, gli industriali americani, l'industria americana, puntò tutto sulla standardizzazione. I tedeschi assolutamente no. Provate voi, tanto torniamo a fare un esempio qua in Italia. Cioè, mentre i tipi di camion americani erano standardizzati e c'era un limitato numero di pezzi di ricambio da produrre in massa, signori, tanto per dirne una, avete mai pensato se si poteva mettere, ripeto, faccio sempre l'esempio della pedaliera, avete mai pensato se si poteva mettere la pedaliera di un camion Breda su un camion OM? Di mettere la pedaliera di un OM su un camion Lancia? Eh? La Fiat! La Fiat! Vi immaginate la Fiat? Una freno, frizione, acceleratore di un camion Fiat montati su un Lancia o su uno Spa? No, non era possibile. Perché? Perché lo Stato corporativo italiano non fu mai in grado di effettuare le giuste e doverose pressioni sull'impianto industriale, sugli industriali. si fa spesso, cioè a proposito dell'inettitudine, diciamola così, dell'inettitudine e del fiasco che fu lo Stato corporativo fascista, occorre ricordarsi quello che accadde dopo Caporetto, cioè dopo Caporetto, allora, 1917, la disfatta di Caporetto. Gli austro-tedeschi catturano un gran numero di soldati, gli austro-tedeschi catturano uno spaventoso numero di cannoni, di automezzi, di proiettili di artiglieria, insomma, fanno un bottino immenso. Che cosa succede? Succede che l'Italietta liberale, la tanto denigrata Italietta liberale, mette tutto l'impianto bellico nelle mani di un solo uomo, un semplice colonnello, il colonnello dell'olio. Dell'olio, in sei mesi, con poteri dittatoriali, prende, con poteri praticamente dittatoriali, prende, riorganizza, si può dire praticamente da solo, tutto l'impianto industriale italiano, che nel giro di sei mesi riesce a ripianare completamente le perdite e a produrre molto più e molto meglio armamenti e munizionamenti rispetto a prima di Caporetto. Ecco, Dell'olio, prima dell'entrata in guerra dell'Italia nel 1940, si dimise dalla sua carica di capo dell'ufficio approvvigionamenti. Perché? Perché, innanzitutto, era molto anziano. Seconda cosa, non voleva più avere a che fare con quei mentecatti che berciavano e starnazzavano di guerra, ma che non avevano la più pallida idea che la guerra si vince con la logistica. Dell'olio si dimise in maniera estremamente polemica, mando tutti a quel paese e si ritirò a vita privata. Mentre, come dire, Fabri Guerra veniva affidata al generale Favagrossa che, poveretto, fece anche più del suo dovere e che riuscì in una, come dire, con uno sforzo enorme a mantenere l'Italia in guerra almeno fino a metà 1943, quando poi la situazione collasso. La differenza tra chi ha vinto e chi ha perso la guerra è tutta qua, è spiegata tutta in questo libro. Una lettura estremamente godibile, una lettura che ti apre, che apre veramente uno sguardo molto preciso, molto accurato su quello che c'era a monte degli eserciti combattenti. Ripeto, la maggior parte degli appassionati di storia autodidatti come me si ferma al puro e semplice atto della guerra in sé, la battaglia di Kursk, la battaglia di Inghilterra, l'affondamento della Bismarck, la battaglia di Capo Matapan, la battaglia di El Alamein, la battaglia di Sid el Barrani, la campagna di Russia, la campagna di Grecia, ma, ma, non si pensa, noi appassionati, non pensiamo quasi mai a quello che c'era alle spalle degli eserciti in guerra e a quello che permetteva loro di combattere. E questo libro ci permette di gettare uno sguardo approfondito, preciso, accurato ed estremamente chiaro su quello che accadeva a monte delle battaglie, lo sforzo industriale degli alleati finalizzato a conquistare la vittoria. Insomma, questo libro ci spiega perché le deboli, decadenti, corrotte, marce, demoplutocrazie giudaico-massoniche anglo-americane e il comunismo stalinista bolshevico-sovietico riuscirono in quello che i regimi militaristi italiano, tedesco e giapponese fallirono. cioè i regimi militaristi e militarizzati crollarono miseramente e sanguinosamente sotto il peso delle capacità organizzative e logistiche degli alleati. Perché? Perché semplicemente quando si è trattato di organizzare, di organizzazione di logistica di pianificazione la dittatura non funziona non funziona la dittatura non riesce a funzionare per il semplice fatto che la dittatura fondandosi su un unico uomo al comando non sempre quest'unico uomo al comando ha le competenze sufficienti e la capacità come dire e l'apertura mentale per capire cosa si deve fare veramente in guerra. Hitler e Mussolini non ci arrivarono i giapponesi prigionieri del loro mito autoprodotto insomma della loro convinzione di agire per ordine del divino imperatore non ci pensavano neanche. Stalin dittatore crudele spietato e feroce ebbe il pragmatismo la flessibilità mentale di piegare la propria paranoia la propria sete di potere il proprio amore per il potere alle superiori necessità c'è anche da notare una cosa lo sforzo industriale sovietico fu indubbiamente enorme si dice che i sovietici non avrebbero potuto vincere la guerra senza l'appoggio americano l'appoggio americano e inglese fu indubbiamente enorme jeep carri armati locomotive navi fu fornita una massa di materiale imponente ai russi ma 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 gli inglesi ne ricevettero cinque volte tanto sì sì la massa degli aiuti americani all'inghilterra fu di cinque volte superiore agli aiuti agli aiuti inviati dagli americani all'unione sovietica l'unione sovietica dopo il dopo lo shock di barbarossa sviluppò uno sforzo enorme per ripristinare il proprio impianto industriale la famosa il famoso spostamento delle industrie oltre gli Urali dove erano praticamente al sicuro ma Stalin ripeto ebbe il pragmatismo che mancò completamente a Hitler e Mussolini di capire che doveva lasciar lavorare le persone competenti non solo a livello militare ma anche e soprattutto a livello logistico di pianificazione di preparazione e industriale Stalin ebbe la sorprendente flessibilità di far lavorare le persone competenti Hitler e Mussolini si vollero circondare praticamente solo di leccapiedi e incapaci Hitler pose in mano l'organizzazione dell'industria a Speer ma Speer per tutto il periodo in cui fu ministro degli armamenti dovete combattere aspramente contro i suoi rivali nell'ambito della corte di Hitler Speer era in una guerra aperta e spietata con il suo vice Speer era in una guerra aperta e spietata contro l'impianto industriale parallelo creato da Goering perché perché vedevano come fumo negli occhi quello che Speer doveva fare la standardizzazione e e in questo libro c'è questa cosa le differenze vengono rimarcate le differenze tra il farraginoso e caotico sistema tedesco e la capacità organizzativa di pianificazione e di sviluppo degli alleati la strada della vittoria di Richard overi perché gli alleati hanno vinto la guerra eccolo qua un libro che vi consiglio caldamente di leggere un libro assolutamente indispensabile un utilissimo strumento per cominciare a capire come come nel giro di due anni la situazione bellica si sia totalmente e completamente ribaltata a favore degli angolo americani e dei sovietici tutto qua quindi cari signori come sempre spendetevi 16 euro entrate in libreria ordinatelo spendetevi 16 euro ne vale la pena e vi aiuterà a capire tante 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 cose tutto qua signori Richard overi la strada della vittoria perché gli alleati hanno vinto la seconda guerra mondiale un libro assolutamente da leggere un libro che vi fornirà utilissimi strumenti per aumentare le vostre conoscenze sul periodo storico più importante del della storia recente delle nostre storie recente tutto qui quindi cari signori come sempre aspetto i vostri commenti come sempre aspetto che mi facciate avere le vostre opinioni come sempre leggete perché l'unica cosa che viene danneggiata dalla lettura è la vostra ignoranza tutto qui quindi cari signori come sempre arrivederci al mio prossimo video e soprattutto ciao ciao